Siamo gli unici al mondo che abbiamo fatto dischi con nel lato A le canzoni e nel lato B le scuse della casa discografica. L'ironia è la nostra cifra principale per cui siamo stati costretti a tenere gli occhi ben aperti sulla realtà per cercare di farli aprire agli ascoltatori, senza però predicare nel senso che non siamo mai partiti dalla presunzione di avere il punto di vista giusto. Anzi, abbiamo sempre coltivato il dubbio che è un elemento indispensabile nella vita degli esseri umani, visto che nessuno nasce con il libretto di istruzione. Ed è anche profondamente democratico, perché lascia spazio al parere degli altri. Solo gli imbecilli non hanno dubbi e, infatti, solo su questi io non ho alcun dubbio.